Papa Francesco ha ricevuto oggi il Presidente dell'Ucraina, Petro Poroshenko. Il colloquio privato, riferisce la Sala Stampa Vaticana, è stato dedicato principalmente alle questioni connesse con la situazione di conflitto nel Paese. A riguardo il Papa e il Presidente ucraino hanno condiviso l'auspicio che con l'impegno di tutte le parti interessate siano privilegiate soluzioni politiche, a cominciare dalla piena realizzazione degli accordi di Minsk. Al contempo si è espressa preoccupazione per le difficoltà nell'affrontare l'emergenza umanitaria, con particolare riferimento all'accesso delle organizzazioni specializzate all'area toccata dalle ostilità, all'assistenza sanitaria, allo scambio di prigionieri, nonché le ripercussioni economiche e sociali del conflitto su tutto il territorio. L'incontro è stata occasione per rilevare l'importante ruolo delle Chiese nella società, nonché il contributo delle comunità greco-cattoliche e diritto latino alla vita del Paese.